buongiorno bellezze buongiorno amiche mie buongiorno buongiorno e buon inizio settimana mi si stanno parlando gli occhiali però come sempre che si deve fare un bel casino amiche mie oggi mi sono svegliata da ieri penso e oggi ho deciso di fare un video sulla diciamo che ho deciso di fare un video di quanto sia importante la prevenzione per noi donne non solo per noi donne ma anche per gli uomini ma soprattutto per noi donne la prevenzione a volte veramente ci può salvare la vita e vi racconto la mia storia di quando ho scoperto di avere un fibroadenoma al seno e partiamo che praticamente io come sapete qualcuna di voi avevo già fatto diverse inseminazioni artificiali andati a tutti a male e ho fatto delle ciclo di ormoni molto impegnativi ed ero sempre sotto controllo per quanto riguarda il seno ero sempre sotto controllo per insomma perché avendo un seno parecchio importante me che mi è avevo parecchie parecchie noduli però sempre tranquilli niente di che noduli normale ecco e niente amiche mie e finisco le inseminazioni che sono parecchie andate male tutte faccio l'ecografia va tutto bene passa un anetto deciso di far decido di fare un'altra inseminazione ma a questo punto non fare più un inseminazione normale ma fare un nuovo donazione la mina mi si appanano l'occhiale però senza senza non mi trovo bene decido di fare un nuovo donazione perché questo è il mio sogno perché io desidero diventare madre non ho niente meno degli altri chiaramente e voglio provare tutto e per tutto chiaramente voglio provare niente mi si appanano voglio provare tutto e per tutto chiaramente ecco non per non avere rimpianti un domani e se come l'ultima volta il professore mi disse guarda oxana che non puoi più fare l'inseminazione normale con i tuoi ovosciti ma se vorrai proseguire dovrai solo accedere alla banca estera per un nuovo donazione come voi sapete in italia purtroppo non ci sono donatori né donatrici e anche se questa tecnica si può fare in italia però gli ovuli e spermatozoi profengono tutti dall'estero spagna irlanda polonia insomma tutti questi paesi e niente per non allungarmi io decido che farò un nuovo donazione prendo un appuntamento in una clinica in italia l'ovodonazione come l'inseminazione sono diciamo un po aiutati dallo stato qualcosa pagano loro sono in convenzione però ne puoi fare per esempio nella regione toscana quattro cicli più di quattro non le puoi fare prima erano tre ora sono quattro sicché niente se invece voi tramite privato devi pagare a tutto il prezzo interno che è di 4800 euro invece se vai a conservizio sanitario nazionale insomma qualche va un paio di meno niente vado in questa clinica prendo appuntamento parlo con un professore mi spiega insomma in da farsi che dovrò fare determinate analisi esami preventivi prima di procedere all'ovodonazione perché chiaramente quando una gravidanza viene naturale magari non sta a pensare a tutte queste cose no a tutti problemi che può avere magari qualche malattia uno rimane incinta naturale amen quando invece uno lo cerca chiaramente bisogna escludere tutti i rischi che si possono avere e medico mi dice guarda questi esami questi e poi devi fare anche un ecografia al seno torno a casa molto 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 positiva tutto quanto come sempre io questo è il mio desiderio io diventerò mamma e non c'è niente che mi può fermare vado prendo appuntamento vado qui nella mia città faccio un ecografia conosco bene la dottoressa perché una dottoressa meravigliosa meravigliosa porto sempre nel mio cuore ora non lavora più qui ha dato alle dimissioni purtroppo lei mi conosceva perché ero sotto controllo già con il seno avendo io fatto tante l'inseminazione mi fa l'ecografia e mi dice oxana c'è una cosa strana io non ho mai scontrato nemmeno l'ultima volta c'è un nodulo particolare che non è come tutti gli altri non mi piace e dobbiamo fare d'urgenza mammografia con contrasto amiche mie per me sai in quel momento mi ha passato un calore dai piedi fino alla testa è proprio una delusione la paura tutte le cose perché uno non si aspetta mai non dici tanto a me non tocca mai non tocca mai non mi succederà mai e niente per il giorno dopo la dottoressa prepara tutto lei mi prende appuntamento il giorno dopo arrivo all'ospedale sono parecchio preoccupata parecchio ansiosa io già di mio sono ansiosa e sono molto paurosa sono un tipo parecchio pauroso arrivo e mi fanno il contrasto mi mettono insomma mi fanno le mammografia con contrasto da lì la dottoressa mi dice non sembrerebbe sia una cosa grave però non sembrerebbe neanche una cosa non grave c'è dice dalla mammografia non è da escludere niente si chiama dice bisogna fare come si chiama la biopsia mi programma tutta la dottoressa io mi sento morire sento sempre più allontanarsi il sogno da me mi sento proprio sapete quando ti cade il mondo addosso quando sei in un tunnel e dici tu vai 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 non arrivi mai in fondo a questo tunnel ecco la solita cosa per me amiche mie niente vado a casa mi preparo dopo pochi giorni vado a fare sta biopsia una paura terribile vado su youtube su internet a vedere come fanno le queste cose come vengono fatte le biopsie mi preoccupo mi spavento perché poi io sono una che vado sempre su internet a vedere questo è sbagliato non bisogna mai andare perché poi arrivi con l'ansia con la paura ti fai una testa tanta no no facciamo passare sto motorino e amiche mie c'ho la finestra aperta niente arriva il giorno della biopsia paurosa meno male che la dottoressa è bravissima mi mette a mio agio mi dice non ti preoccupare ti faccio anestesia lì al seno si fanno delle punturine di anestesia ma comunque io la paura ce l'ho sempre amiche e cominciano a fare la la puntura mammina quando ti buca il seno io penso che non ci sia cosa più brutta e più dolorosa amiche mie quando uno ti buca il seno è una cosa proprio micidiale non scorderò mai quel dolore tra il dolore tra la paura io mi sentivo persa mi sentivo persa niente mi fanno l'anestesia dottoressa se mette lì che chiariamo perché come vedete io sono una chiacchierona e mi piace insomma chiacchierare di tutti gli argomenti dopo un po la dottoressa dice guarda aspettiamo 10 minuti 15 affinché l'anestesia faccia faccia effetto e si parte mi spiega che insomma che andrà a prelevare un pezzettino da questo nodulo sicché niente piglia un ago un agone mammina dice c'è l'anestesia sì ma comunque quando è dentro tu lo senti quando muove così non senti dolore ma senti questa cosa de così credetemi io non lo auguro a nessuno amiche mia nessuno e niente la dottoressa ci mette tanto perché mi spiega con un seno parecchio noduloso parecchio dove questo nodulo c'è un sacco di vene un sacco perché era proprio sì qui su proprio a questo senno destro e ci vuole quasi mezz'oretta per pigliare la mira finché mi sparassero con quella pistola per prelevare un pezzettino di nodulo che la dottoressa mi dice oxana ferma ci siamo ferma non ti muovere e mi spiega sentirai un sparo forte e non ti preoccupare non ti muovere perché questo è solo la pistola va bene io chiudo gli occhi in quel momento pensa alla mia nonna penso la mia nonna che nel cielo che con me penso che andrà tutto bene niente amiche mi eri viverlo non è semplice penso a lei chiudo gli occhi e sento un sparo bam ma proprio sembra un sparo e sento proprio un caldo un calore apro l'occhi vedo il sangue schizzare ma schizzava il sangue come quando si rompe un tubo e c'è la pressione sangue schizza e lì capisco che è successo qualcosa che forse non doveva succedere sento la dottoressa che chiama urla chiama l'infermiera le dice di prendere delle buste di ghiaccio e di prendere qualcos'altro la dottoressa mi mette le mani qua sul petto dove da dove schizzava il sangue pigiava forte e io mi comincio a girare la testa e in quel momento lì penso che forse è arrivato il mio momento mammina davvero pensai sarei morta e in quel momento ho pensato mammina quanto tempo ho sprecato caspita quanto tempo ho sprecato per cose inutili magari sono in quel momento ero anche in litigio con una persona mia molto cara non avevo fatto la pace mi sembriva una stupidaggia dice che sarà mai ma in quel momento per me è stato terribile niente la dottoressa che mi pigia sui senno mi pigia forte l'infermiera porta le buste di ghiaccio leva la mano il sangue continua a schizzare la dottoressa mi dice non guardare non guardare gira la testa chiudi gli occhi non ti preoccupare mi fa la dottoressa vedrai che andrà tutto bene niente pigia pigia come un potere la dottoressa nonostante che piccolina e secchina aveva una forza che mi sembrava di non lo so che mi schiacciava non vi dico i pensieri in quel momento che mi sono passate amiche mie non vi dico la paura davanti ai miei occhi è passata credetemi amiche mie apprezzate tutto quello che avete perché ve lo giuro in un attimo non si sa mai quello che ci può succedere niente la dottoressa ripigia ripigia ritogli la mano per vedere se sangue non veniva più invece sangue schizzava tutto fuoco ero piena di sangue sul cuolo in testa mi cominciò proprio a girare di brutto la testa le dissi dottoressa non mi sento bene con mezze parole lei dice chiudi gli occhi stai tranquilla dice se vediamo che non si ferma si chiama l'anestesista e niente chiama l'infermiera le dice di portare una cosa e con una siringa mi infilava un liquido dentro poi mi spiego che era un liquido per far cicatrizzare la pena e dopo un pochino amiche mie dopo un pochino cominciò il sangue a smettere la dottoressa stieti altri dieci minuti così a pigiarmi e niente il sangue grazie a dio si fermò ero piena di sangue sul cuolo davvero sembravo il cappello e tutto e la dottoressa mi guardò e mi disse oxana però sei proprio sfortunata invece queste cose di solito non succedono mai e io l'ho guardato con due occhi veramente mi mise a piangere scoppiai a piangere perché capì che il peggio è passato mi sono rilassata e la dottoressa mi disse sei proprio sfortunata ho detto vabbè dottoressa non mi può non mi può perdere niente io va bene io piglio tutto niente mi fanno rimanere lì anziché andare a casa sono rimasta lì con loro tutto il giorno fino alla sera mi hanno dato cioccolata da mangiare ho detto dottoressa ma sono già bella cicciona se mi ha dato a sta roba e dice no perché hai perso tanto sangue mi hanno tenuto sotto controllo e la dottoressa veramente è stata troppo carina amiche mie e ho avuto una paura terribile in quel giorno lì infatti uscita di lì la prima cosa che ho fatto ho chiamato la persona con cui ero un po' arrabbiata e le ho detto quanto le voglio bene e penso che sia sbagliato io penso quando due persone litiga due amici o quando uno si discuti con qualcuno io penso che la cosa più bella è fare sempre pace perché non si sa mai quello che ci capita nella vita quello che ci può succedere vabbè niente vado a casa purtroppo la biopsia non è andata bene perché chiaramente avendoci rotto la vena non si è potuto più fare la biopsia si chiara dottoressa mi dice guarda Oksana dobbiamo aspettare che guarisca il seno mi danno delle buste di ghiaccio una crema arrivo a casa faccio di tutto per evitare l'ematoma ma non c'è stato versi la mattina mi sveglio con una tetta nera tutto nero tutto nero e dobbiamo aspettare finché il seno non guarisce passa un po' di settimane il seno guarisce la dottoressa mi contatta e ritorno a fare la biopsia amiche mie credetemi a rifare la biopsia dopo quello che mi è successo è stato non paura ma di più comunque la dottoressa è brava la seconda volta la biopsia va benissimo ci mettiamo un sacco di tempo la dottoressa ci ha messo un tempo infinito poverina perché veramente ero piena di noduli questo nodulo era vicino a delle vene chi le dici per evitare visto la fortuna che hai cerchiamo di stare attenti niente mi fa biopsia e mi dice guarda oxana il tempo che arriva il risultato e poi speriamo bene mi arriva il risultato mi arriva il risultato anzi mi chiama la dottoressa nemmeno mi arriva a me a casa mi dice oxana ti devi operare io le spiego mi chiedo come mai lei mi dice guarda purtroppo dalla biopsia non è non hanno né escluso né confermato che sia un tumore maligno c'è proprio scritto che è alto rischio di malignità alto rischio di malignità e li amiche mie vedo tutto nero davanti agli occhi vedo nero davanti agli occhi ma io voglio andare verso il mio sogno si che dico va bene dottoressa amine se sarà negativo c'è se sarà maligno positivo tanto dobbiamo operarci via tagliamo la testa ai toro operiamoci non ci pensiamo più inutile tanto che mi piango addosso sì ho pianto non è che dico non ho pianto ma mi sono svegliato detto c'è da fare questa cosa si fa questa cosa mi operano velocissimo anno scorso a luglio l'intervento vado a siena oncologia mi operano un'equip bravissima non vi dico le paure tutto l'intervento dura quattro ore e mezzo il medico dopo l'intervento non ha io vado camera dopo l'intervento mi sveglio e mi vedo il seno proprio tutto chiuso tutto con elastico tutto come si chiama insomma l'avete capito insomma non mi viene la parola amiche mie perché non è semplice di vivere mi vedo il seno tutto così chiuso tutto con queste garze vado allo specchio un bagno mi alzo piano piano mi alzo piano piano non la solita sera perché non avevo forza il giorno dopo la mattina presto vado un bagno e la paura la curiosità non lo so mi levo questa fasciatura e mi vedo i segni diversi tra loro amiche mie vedo un seno più grande e uno più piccolo e lì vado ancora più mi perdo proprio comincio a piangere comincio a piangere mi dispero sono il campanello arriva l'infermiera e le dico guarda io ho bisogno di parlare con il professore perché io non sono diverso dall'altro e io non sto bene lo so amiche mie voi direte ma intanto spera che sia un tumore non maligno intanto questo sì amiche mie ma per una donna credetemi è difficile vedere il suo corpo diversamente che tanto è vero che mi hanno operato tutti due sene perché purtroppo nel in quando mi hanno fatto l'intervento questo fibra denoma era così grosso che hanno dovuto operarmi anche secondo seno nello stesso momento per farli identici e nonostante questo avevo due segni diversi niente l'infermiera chiama medico arriva e mi dice guarda professore in sala operatore e quando hanno finito vengono tutti insieme ti spiegano le cose non ti preoccupare io non smettevo di piangere vera come non poteva venire nessuno e penso che è stata una esperienza veramente brutta che non lo auguro a nessuno arriva il professore con tutta l'equipe che mi hanno operato carinissime bravi un'equipe bravissima mi guarda e mi dice oxana che è successo ho detto dottore io ho un seno diverso c'è una tetta più grossa e una più piccina anche lì trovavo sempre da scherzando a ridere e lui mi fa è normale ora perché questa dove avevi fibra denoma è tanto gonfia perché abbiamo tagliato avevi un fibra denoma come un albicoca avevi un fibra denoma grosso e quell'altra dice l'abbiamo fatto uguale dice quando guariranno ce l'avrai perfette identiche e dici se non saranno così ti prometto davanti a tutti ti rifarò le tette più belle del mondo lì per lì sembra così ma insomma lì per lì mi sono tranquillizzata gli chiedo al medico secondo lui com'era il fibra denoma lui mi guarda e mi dice oxana all'occhio non aveva un bel aspetto però dici se come era bello tondo così come un albicoca abbiamo tolto tutto non è rimasto niente sì che comunque vada non dovrei fare né chemio né radio dici perché abbiamo tolto tutto tutto anche più di quello che si doveva perché era proprio tondo non c'aveva radice non c'aveva niente però dice non aveva un bel aspetto e lì dalle a piangere lì per lì niente amiche mie mi risveglio una mattina dopo più forte che mai vado a un bagno mi preparo mi riguardo le pocce mi sembrano un pochino più belline anzi devo dire la verità stavano anche belle su ho detto ma mi lascio tutte e mi stanno anche in su che cercavo di trovare insomma anche qualcosa di positivo in questo comunque mi fasciano per bene il giorno dopo due giorni mi mandano a casa continuo andare a fare medicazioni ogni due tre giorni aspetto la biopsia dopo quasi un mese mi arriva la biopsia dell'intervento e se dio vuole un fibroadenoma si brutto sarebbe potuto andare in peggio ma per ora era ancora tranquillo non devo fare nel chemio nel radio ho dovuto fare solo una cura cortisonica fortissima e delle altre un'altra cura però intanto l'abbiamo preso un tempo ho fatto medicazioni sono stata un parecchio indietro mi ha dato parecchio fastidio il seno e che pensate amiche mie potevo farmi mancare qualcosa no no il filo di sottura dove mi hanno tagliato il seno intorno ai capezzoli mi danno una forte allergia e mi fanno venire delle ferite orribili brutte 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 non vi dico il percorso di questa cosa per 45 mesi ho dovuto fare quasi una volta alla settimana le punture di cortisone e un'altra sostanza tutto intorno ai capezzolo voi avete idea fare le punture intorno ai capezzoli senza anestesia perché purtroppo non si può mettere anestesia quando si fa questo tipo di trattamento dolore da non vi dico e ad oggi amiche mie sto bene grazie a dio ma purtroppo dovrà dovrò fare un intervento di nuovo a tutti due seni ma solo un intervento di estetica per levare queste brutte cicatrici e per far diventare il seno bellino perché insomma c'ho sempre 41 anni gnamo dai però grazie a dio sto bene sto bene sono felice e sono sicura che arriverò anche al mio sogno di diventare mamma e niente amiche mie questa è la mia storia questa è la mia piccola esperienza per quanto riguarda la prevenzione perché io dico mi ha detto anche professore se io questa ecografia non lo facevo e non lo scoprivano questo fibroadenoma non sarebbe stato così buono perché era talmente grosso e brutto già vedersi che è stato un miracolo che non era diventato brutto di quelli cattivi e lì mi sono resa conto con la prevenzione e la nostra salvezza sì uno può dire vabbè qualche dato che è scritto se ci crediamo nel destino succederà sì è vero ma sempre è meglio prevenire e curare amiche mie e la positività in questi casi anche questa aiuta sì in certi momenti ho pianto mi sono disperata ed ero diventata come una bambina avrei avuto bisogno di affetto di cuoccoli di abbracci ero sola perché purtroppo nessuno poteva entrare però noi donne siamo forti e nessuno ci può ammazzare nessuno ma chi ci ammazza noi nessuno la positività è tutto per noi donne davvero voletevi bene andate a fare dei controlli all'utero al seno fate controlli annuali la prevenzione a me per esempio mi ha salvato un tempo si chiami che mi e spero questa storia per qualcuno sia un input anche per andare a fare una prevenzione e spero che per qualcuno sia stato una cosa positiva spero di essere di aiuto per qualcuno vi ringrazio vi ho raccontato di cuore la mia storia vi chiedo di sostenermi di mettermi un mi piace di iscrivervi al mio canale e di sostenere sostenermi amiche mie bello raccontarsi però per quello che è e niente amiche mie vi saluto vi auguro un buon inizio settimana io oggi inizio mio primo giorno di lavoro alla copp sono contenta sono orgogliosa di me mi guardo e mi dico brava oxana brava continua così i tuoi sogni si realizzeranno tutti passo passo basta di pazienza amiche mie vi voglio bene alla prossima